I carabinieri di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Locri, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale dei Confronti di tre persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, del grave fatto di sangue avvenuto nelle Locride tra il 12 e il 13 novembre dello scorso anno. Le indagini dei carabinieri di Rocella Ionica, partite dal rinvenimento del cadavere bruciato di Vincenzo Cordì all'interno della propria autovettura, hanno consentito di far luce su uno dei più efferati omicidi degli ultimi tempi. L'uomo è stato bruciato, in auto ancora vivo, dalla moglie. Gli approfondimenti svolti dai militari dell'arma hanno fatto piena luce anche sulla movente del grave fatto di sangue inquadrato nell'ambito familiare.